Alessandro Bisato ringrazia il partito per la fiducia riconfermata. La sua carica di segretario veneto del PD sarebbe comunque decaduta il prossimo aprile. Il partito andrà a congresso qualche settimana prima per scegliere il successore, per provare a dimenticare quell'11,9% alle ultime regionali, peggior dato di sempre, che Bisato prova a spiegare così. Si tratta di capire come riuscire a parlare alla parte produttiva del Veneto, io penso, quindi gli artigiani, gli imprenditori, i commercianti, tutto il mondo che ha a che vedere con il turismo, con l'accoglienza che è patria di questa nostra regione. Lo dite quasi a ogni sconfitta, quello di tornare a riuscire a parlare a determinate categorie, perché poi nel giro di cinque anni questo non avviene, secondo lei? È vero, c'è da capire come mai dentro di noi, nelle realtà amministrative medio-piccole, fino alle medie, fino a qualche città, fino a Padova ad esempio, riusciamo ad amministrare e ad amministrare, tenendo assieme il centro storico delle città, il voto da ZTL, come ci viene attribuito, con però anche un voto nelle periferie, che voglia dire che tutta la città riesce ad essere inclusiva, non lasciando indietro nessuno, ma anche con l'intrapresa, con l'andare avanti, con l'ambiente al centro del progresso e non l'ambiente solo letto come, come dire, fermarsi ad avere una decrescita felice. Ecco, noi sappiamo interpretare questi temi, non aspettarci che le risposte arrivino da Roma, ma interpretarle qui a livello locale, anche con leadership forte, che a questo punto non sono emerse prima, ma devono emergere con tutta la vitalità possibile nei prossimi mesi.